Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo, premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione la pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram Buona visione! Avete presente quando ci sono quei giochi, non solo Pokémon ragazzi, giochi in generale che stanno per uscire, sono praticamente al lancio quasi e non mi hanno ancora convinto più di tanto, siete ancora abbastanza incerti riguardanti insomma le loro news e i trailer che hanno offerto negli ultimi mesi però ragazzi, per questi giochi abbiamo visto ieri per quanto riguarda Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Duna basta solamente un poster, un singolo poster per accendere l'hype e le speculazioni di un intero community di Pokémon Stiamo appunto parlando ragazzi del fantastico poster promozionale uscito ieri insomma sul web e che raffigura veramente una scena fantastica riguardante insomma Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Duna quindi in questo video andremo ad analizzarlo in breve ragazzi, veramente in brevissero in quanto molti di voi l'avano già insomma visto questo poster nella giornata di ieri però vorrei sapere veramente la vostra opinione nei commenti insomma su questo poster nel vostro giudizio e ovviamente ragazzi un bel like sarebbe veramente fondamentale per supportarmi a pieno quindi a questo punto direi di partire dalla parte inferiore bassa insomma di questo poster con una data che insomma è impressa, il 22 settembre quindi magari questo venerdì il 22 appunto di settembre abbiamo magari un trailer, nuove news che ci danno spiegazioni ulteriori su questo poster vabbè io ragazzi lo spero in quanto veramente le nostre domande cercano e insomma hanno necessità di alcune risposte dopo questo fantastico poster promozionale passando però ragazzi un po' sopra nel poster insomma abbandonando le date che ci sono nella parte inferiore vediamo assolutamente la prima cosa che mi ha colpito in questo poster ovvero Lilia ragazzi infatti era come mi ricordavo io e insomma penso anche voi in solo il luna Lilia non aveva mai sfiorato, toccato una pokeball insomma in tutto il gioco mentre qui insomma dopo la prima parte del gioco in cui praticamente è la solita Lilia di sempre sembra diventare in tutti gli effetti un'allenatrice così a prima vista ragazzi infatti ha una pokeball quale pokeball nasconde questa ball non si sa potrebbe essere il suo vulpix di forma loro dell'anime beh non possiamo saperlo in questo momento ragazzi è decisamente impossibile fare teoria a riguardo nella parte in basso resta invece notiamo ragazzi la figura di Ao beh vi ricordate tutti Ao immagino un ragazzo molto solare, sempre sorridente e molto simpatico in questa immagine però sembra decisamente insomma più adulto insomma più serio, dai tratti appunto più adulti una cosa molto strana che mi ha colpito veramente tantissimo e poteva avere insomma un cambiamento nel corso del gioco un po' come il Lilia ragazzi sembra diventare a tutti gli effetti un'allenatrice quindi chissà che Ao da personaggio simpatico solare di inizio gioco in pokemon ultra sole e ultra luna diventerà insomma più serio ed è questa espressione sembra veramente insomma più concentrato più preso dall'intera faccenda ragazzi della trama di pokemon ultra sole e pokemon ultra luna quello che invece è rappresentato più piccolo di tutti è Iridio che è praticamente di fianco a Lilia e insomma sembra avere un ruolo quasi marginale in questo poster come se insomma nella trama non insomma avesse un ruolo così importante come per esempio Lilia e Ao da questo poster però ragazzi chissà aspettiamo nuove news perché magari poi ci stupiscono e Iridio avrà anche egli una insomma un ruolo ben definito nella trama di pokemon ultra sole e pokemon ultra luna spostandoci invece verso la parte centrale ragazzi vediamo ovviamente i protagonisti principali con uno sguardo anche qui molto molto più serio e determinato differente veramente tantissimo da insomma i personaggi simpatici che abbiamo visto veramente in molti trailer e in molte immagini vediamo anche insomma gli start nelle loro forme finali in senero alla prima linea dei C2i veramente fantastici in questo loro art che vediamo anche ovviamente ragazzi solgalea ad un'ala nelle forme insomma di fusione possiamo così dire con il pokemon necrozma sappiamo tutti però che nella parte superiore di questo poster ci sono 4 individui insomma nascosti nell'ombra vicino a questo portale dimensionale che si è aperto nella regione di allora beh ragazzi su questi individui veramente c'è il mistero proprio non sappiamo al momento chi siano da dove vengono cosa vogliono in questi nuovi giochi ragazzi però sono apparsi dal nulla in questo poster speriamo veramente di ottenere news a breve su questa insomma nuova realtà di pokemon ultra sole e pokemon ultra luna inizialmente ho addirittura scambiato questi individui per delle statue ragazzi però guardandoli bene e insomma più attentamente sembrano effettivamente delle figure umane con delle tutte molto particolari chissà da dove vengono e cosa servivano quelle tutte ragazzi però insomma a prima vista quindi alla prima volta che ho visto questo poster proporzionale mi hanno ricordato i dipendenti della fondazione Eder ragazzi qui là con il casco insomma con una tuta differente però insomma perché mettere questi dipendenti della fondazione così in risalto in questa posizione così importante in questo poster beh l'apparenza non avrebbe alcun senso ragazzi perché sono semplici dipendenti della fondazione e non vedrei molto insomma il senso logico di metterli in una posizione così di rilievo quindi per forza di cose bisogna insomma ad ogni modo trovare un'identità diversa a questi personaggi ragazzi partiamo dal tizio che è in alto a destra insomma le semianze sembrano effettivamente quelle di un uomo ovviamente non possiamo riconoscere niente insomma anche dal suo volto ragazzi veramente è irriconoscibile però vediamo appunto questa tuta con quella specie di corazza dietro e nient'altro di identificabile secondo me nella parte invece sinistra ragazzi insomma in basso vediamo questa figura insomma leggermente più bassa rispetto alle altre e secondo me si vede una specie di treccia che esce da questa maschera barra casco quindi questa cosa potrebbe tranquillamente essere una ragazza chi ovviamente non si sa però secondo me ragazzi l'azzardo in questo momento questa potrebbe essere una ragazza perché secondo me quella è palesemente una treccia che esce dalla maschera subito dopo vediamo questa figura veramente imponente rispetto alle altre ragazzi quasi se fosse tipo una specie di leader di questa nuova formazione insomma di personaggi misteriosi insomma vedendo le sembianze di questo personaggio mi vorrebbe dire che questa è una donna però ragazzi è veramente impossibile dirlo con esattezza mentre il personaggio ancora dietro insomma non riesco per niente a riconoscerlo è veramente nascosto nell'ombra bene e insomma le immagini al momento sono ancora abbastanza sganate per poter dare un'informazione più dettagliata su questo personaggio come avete potuto capire ragazzi c'è veramente un grande aloni mistero che insomma alleggia su questi misteriosi personaggi da questa tuta veramente molto molto strana c'è chi dice ragazzi che potrebbero essere veramente un nuovo team probabilmente da un altro universo da un altro ultramondo che sono arrivati insomma attraverso il portale nella regione di Allora io penso insomma che potrebbero magari essere una nuova insomma sezione della fondazione Eder che non abbiamo mai visto in Pokémon Solo e Luna però per il momento ragazzi non possiamo essere certi quindi solamente il tempo le news e i trailer ci diranno informazioni più dettagliate mi raccomando voi nei commenti ragazzi fatemi sapere anche la vostra opinione un bel like per supportarmi ovviamente se non siete iscritti iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna notifica sui miei video per oggi a Rocca ti direi che è tutto quindi un saluto buon pomeriggio e ovviamente bye bye recluter e E...